bella a tutti ragazzi sono jtfpad siamo anche oggi qui con questo nuovo video nel canale del clan oggi ragazzi vi porto una bella cam veloce veloce fatta in 131 secondi con il reaper ovvero l'ultima arma uscita nel dlc devastation che su ps3 purtroppo si può avere solamente con i season pass le classiche commercialate che fa call of duty però ne vale veramente la pena soprattutto come arma a me piace veramente tanto come ar quindi tirando sul mirino non mi piace perché non ha veramente danno è utile diciamo da distante ma da vicino fa veramente schifo infatti come vedrete userò praticamente solo il mirino normale e sono stato molto contento dai perché comunque era una delle mie prime cam con quest'arma e siamo riusciti veramente a giocarla benissimo questa partita perché non so se avete notato ma i nemici li abbiamo chiusi su biano li abbiamo chiusi sul classico spawn che può essere non so alfa o charlie e quindi magari potete prendere spunto anche voi se volete fare delle cam simili a queste e poi non serve solo non serve che una persona appunto entri nello spawn ma possono tutti quanti farsi tutte le cam del mondo o del monte a parte le cazzate devo ringraziare tantissimo anche legend che mi ha passato il season pass perché senza di lui non ce l'avrei fatto a fare questo gameplay e quindi vi lascerò anche il suo come si dice il suo id psn in descrizione perché giochiamo quasi sempre insieme mi ha chiesto anche lui se volete aggiungerlo per aiutarlo e quindi se aggiungete lui è come aggiungeste anche me nient'altro il gameplay sta quasi per finire quindi ringrazio ancora tutti e vi dico un'altra peculiarità del gameplay ovvero che è stato giocato anche con la mimetica makarov una delle ultime uscite anche su ps3 è davvero molto carina perché tendente al verde assomiglia moltissimo anche a quella nuova di black ops 2 ovvero arsenale 115 nient'altro il gameplay è finito io vi saluto vi chiedo di lasciare un mi piace di passare dal mio canale che sarà in descrizione e ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi non ti piace il gtf ti ammazzati ti gasparati quando arrivo devi farmi passare ciao ciao Grazie a tutti.